Gerry Scotti divorzia dalla moglie. L'uomo è sicuramente stato molto fortunato nella carriera lavorativa, ma non così tanto in amore. La sua vita sentimentale infatti non è proceduta liscia come la sua attività nel mondo dello spettacolo. Estremamente riservato nella sfera intima, Gerry non ha mai parlato pubblicamente delle sue delusioni d'amore o della sua attuale relazione. A distanza di tempo però, confessa qualcosa di sconvolgente. Tutti sanno che Gerry ha un solo figlio, Edoardo, nato dal suo matrimonio con Patrizia Grosso, terminato precocemente. L'uomo infatti si è sposato nel 1991 con la donna, dalla quale è divorziato ufficialmente nel 2009. Sulla loro rottura c'è sempre stato un velo di mistero, in tanti dicevano che era terminata a causa di un tradimento della donna, notizia mai confermata o smentita dai diretti interessati. A distanza di anni però, Scotti è tornato a parlare della fine di quella storia, smettendo le accuse di tradimento e dicendo. Mi vergognavo di aver finito la storia della mia famiglia. Fu terribile fare le valigie e lasciare casa, il luogo dove era nato e cresciuto Edoardo. Comunque è stata tutta colpa mia e dei miei impegni lavorativi. Dopo quella brutta delusione, nel 2011 Gerry ha ritrovato finalmente l'amore nell'architetto Gabriella Perino, di cui è follemente innamorato ancora d'oggi. I due si sono ritrovati, dato che si conoscevano già, grazie ai loro due figli, che frequentavano la stessa classe di scuola.